Ciao, oggi ci sentiamo da Sondon dove ci sono Duke e Tu che mi aiutano e vi vogliamo raccontare cosa c'è nel progetto del sostegno a distanza quest'anno. Noi lavoriamo come Chai a Sondon da 10 anni e quest'anno abbiamo deciso di supportare le famiglie con prodotti per l'igiene personale della casa e della famiglia, con un supporto nutrizionale e con un supporto sanitario sul primo soccorso perché ci siamo resi conto nel corso degli anni passati che ci sono tante cose di cui le famiglie avrebbero bisogno e non sempre noi possiamo garantire, quindi quest'anno abbiamo deciso di fornire loro tutto il materiale di cui necessitano. Insieme al materiale abbiamo creato questa carta che tutte le famiglie tengono in casa in modo da poter imparare proprio per bene come usare le cose che ci sono dentro il pacco bono che molto spesso loro non hanno mai visto e non hanno mai usato, come per esempio lo spazzolino da denti per garantire l'igiene dentale dei bambini, come ci si lava le mani. C'è poi una sezione sul primo soccorso in quanto ci siamo resi conto che tante famiglie si trovano in situazioni di difficoltà e aspettano molto tempo prima di andare all'ospedale e questo significa che a volte piccole ferite diventano cose più gravi e quindi abbiamo fornito a tutte le famiglie un piccolo pacchetto di primo soccorso in modo che possano curare le ferite o le bruciature nel tempo necessario che gli serve di arrivare all'ospedale. L'ultima cosa, tutta la produzione di sicurezza alimentare e quindi abbiamo fatto un piccolo schema per garantire che tutte le famiglie conoscano a pieno quali sono i migliori cibi da dare ai bambini, come cucinarli, come prepararli e soprattutto come renderli sicuri. Quindi c'è una piramide alimentare e sono state fatte sezioni di formazione per tutti loro con le famiglie e con i bambini. Grazie!